La donna che perse una dracma e la certò con la lanterna non l'avrebbe trovata se non ne avesse avuto il ricordo. Trovandola, come avrebbe saputo che era la sua dracma se non ne avesse avuto il ricordo? Anche io ricordo di aver perso molti oggetti e di averli cercati e trovati, e so pure che mentre ne cercavo qualcuno, se mi si chiedeva è forse questo, è forse quello, continuavo a rispondere di no finché mi veniva presentato quello che cercavo. Se non avessi avuto il ricordo di quale era, anche se mi fosse stato presentato, non l'avrei ritrovato poiché non l'avrei riconosciuto. Avviene sempre così ogni volta che perdiamo e cerchiamo e troviamo qualche cosa. Se mai qualcosa, ad esempio un qualsiasi oggetto, scompare dai nostri occhi ma non dalla nostra memoria, la sua immagine si conserva dentro di noi e noi cerchiamo finché ritorni alla vista. Trovatolo, lo riconosciamo sulla base di quella immagine interiore, né diremmo di aver trovato l'oggetto scomparso se non lo riconoscessimo, né potremmo riconoscerlo se non lo ricordassimo. L'oggetto era perduto per gli occhi ma conservato nella memoria.